Il partito rimane il partito fratelli d'Italia perché noi siamo persone abituate da sempre ad andare avanti e a non voltarci indietro, certamente ognuno nel suo ha le sue radici e le custodisce e le difende in maniera gelosa ma ha il dovere di guardare avanti. Quasi tutto il tempo c'è stata coda per andare a provare, io credo che sia una bella dimostrazione che non è vero che la politica è morta, sepolta dall'antipolitica né da politici negativi all'affiorito. La gente, il popolo, ha voglia di avere rappresentanti che possono curare i loro legittimi interessi e possono ruotare la voce dei cittadini negli enti locali, negli enti nazionali e nel Parlamento a rappresentare tutti i loro uomini.